Musica Buonasera, buon sabato telespettatori. In apertura la cronaca ci porta nel Torinese, dove la Guardia di Finanza ha arrestato una trentenne e sequestrato 140 chili di droga. La Guardia di Finanza ha arrestato una donna di 30 anni con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. A Piostasco, nella cantina dell'abitazione dove la trentenne viveva, le fiamme gialle hanno rinvenuto circa 140 chili di droga per un valore superiore al milione di euro. A scoprire che in cantina era nascosta la droga è stato il pastore belga Malinois Locca, giovane cane antidroga delle fiamme gialle torinesi, che ha subito segnalato con particolare convinzione la presenza delle sostanze stupefacenti. I successivi controlli hanno consentito ai finanzieri di rinvenire 1.385 panetti di cellofan, pari a 140 chili di hashish, abilmente occultati dietro alcune scaffalature. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre un milione di euro di illeciti profitti. La donna, arrestata in flagranza di reato, si trova ora in carcere. E ora parliamo del Tri-Lab Talent, primi successi e nuove date. Possiamo definirci molto soddisfatti per quello che per noi ha rappresentato la prima grande occasione in presenza, post-pandemia, con il lancio del primo appuntamento di Izzelettrica 2022. E con queste parole che Paolo Ferrari, amministratore delegato di Comale Ferrari, introduce una riflessione sull'evento fulcro che da anni costituisce per l'azienda un'importante vetrina nei confronti dei protagonisti dell'impiantistica. Nelle quattro giornate dedicate all'efficientamento energetico siamo riusciti a coinvolgere in tutto 1.147 clienti presenti al Tri-Lab di Novara, dice una nota stampa, presso le sedi e collegati in streaming. Considerato il cambio di comportamenti sociali a seguito dell'emergenza sanitaria, la risposta è stata positiva ed è stato molto importante poter riprendere un contatto diretto con tutti gli interlocutori, coinvolgerli nel nuovo posizionamento a cui l'azienda aspira, perché è solo grazie alla possibilità di instaurare relazioni tra il fornitore, i tecnici professionisti e l'utilizzatore finale che si pongono le premesse per un cambiamento prima di tutto culturale che possa influenzare non solo il nostro lavoro ma anche il nostro modo di vivere e relazionarci. Ad ogni serata incentrata sull'efficientamento energetico è stato dedicato uno specifico approfondimento in ambito home, building, industry e city che ha coinvolto oltre alle professionalità come le Ferrari anche relatori esterni provenienti da molte altre regioni d'Italia. Sono state presentate poi molte case history che hanno potuto mostrare concretamente l'efficacia e la messa in pratica di attività utili ad efficientare strutture ed impianti dalla teoria all'immediata pratica. Un parterre di qualità per poter offrire ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi con realtà che rappresentano l'eccellenza dell'offerta e per delineare al meglio la nuova strada maestra che l'azienda vuole percorrere è stato riservato poi uno spazio particolare alle novità rivolte ai servizi che ha messo in campo dando così la possibilità a coloro che hanno scelto di partecipare in presenza di poterne immediatamente scegliere tre di cui godere gratuitamente. Tra queste opportunità, soluzioni e consulenze in ambito domotica, fotovoltaico, lightning e marketing utili a riservare particolare visibilità alle aziende. Vogliamo essere sempre più al fianco dei nostri clienti e accompagnarli nello sviluppo del loro business. Con questa prospettiva è stata sviluppata l'edizione 2022 di Izzelettrica con Clu de Palo Ferrari. Il successivo appuntamento è previsto dal 9 al 12 maggio. Novità nell'aria con una settimana del trattamento aria appunto. L'evento proseguirà poi dall'8 all'11 giugno. Futuro di sicuro con una settimana per la sicurezza dal 26 al 29 settembre. Sempre più smart con una settimana di servizi smart dal 14 al 17 novembre. È possibile iscriversi e trovare ogni informazione sul sito Izzelettrica.it. Ed ora andiamo a Casalino per parlare del restauro della parete dei Santi all'interno della chiesa parrocchiale. Ecco come contribuire. Casalino lancia una raccolta fondi per sostenere un progetto comunità attiva costituito presso la Fondazione Comunità Novarese Onlus. Si tratta del restauro e risanamento conservativo della cappella dell'Annunciata, in particolare della parete dei Santi. Il progetto si propone di restaurare e rendere fruibile l'olatorio dell'Annunciata, locale interno alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Paolo di Casalino, che custodisce un ciclo di affreschi denominato Parete dei Santi, risalente al XV secolo, ma tornato alla luce solo nel 1995. A pianta rettangolare nella sua conformazione attuale, il locale risale alla fine del XVI secolo e ha la decisione di costruire un nuovo edificio religioso sui resti di una chiesa del XV secolo, intitolata proprio all'Annunciata. Per ricavare la nuova sacristia si decise di chiudere con due pareti una porzione del presbiterio della chiesa precedente, di inserire un controsuffitto voltato ribassato, aprire una finestra e stendere uno strato di pittura bianca sugli affreschi preesistenti che rimanevano a vista. Nel 1639, però, essendo stata costruita una nuova e più ampia sacristia sul lato opposto, questo spazio fu trasformato in un deposito. L'intervento su cui si focalizza il progetto presentato alla Fondazione Comunità Novarese Onlus si inserisce all'interno di un progetto di più ampio respiro che si propone di collegare la parete dei Santi ad un percorso espositivo che renda fruibile il patrimonio custodito negli archivi della chiesa parrocchiale. Il percorso si svilupperà puntando al ripristino delle condizioni ottimali del locale e al restauro degli affreschi, cercando per quanto possibile di conservare la leggibilità delle trasformazioni che li hanno interessati. Volchiamo pagina e parliamo della manifestazione Primavera Sostenibile. Comune e Provincia, in collaborazione con i Tiomar di Novare e Oleggio, hanno organizzato la manifestazione intitolata Primavera Sostenibile con l'obiettivo di perseguire 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030 dell'ONU. Il programma della manifestazione prevede diverse giornate, a partire da quella del 22 aprile, la giornata mondiale della Terra, con il titolo Investi nel nostro pianeta. Titolo della conferenza, No More Food Waste, riduzione dello spreco alimentare ed esempi di valorizzazione degli scarti alimentari e delle biomasse. Finerdì 22 aprile, una conferenza con la partecipazione in streaming delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, Imagine, immaginiamo una terra senza guerre, una società sostenibile dal punto di vista sociale, economico, ambientale e istituzionale, città aperte e innovative ma a misura d'uomo ed ambiente. E poi, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, fino all'8 maggio 2022, The Street Face 2030. La finalità della settimana è sensibilizzare e formare gli studenti sulla tematica della mobilità e la sicurezza stradale, mettendo in relazione il mondo dell'istruzione con quello del lavoro. C'erano una volta le mondine 18 maggio 2022, Riso Amaro, un progetto di media education che tratta la storia delle rivolte contadine che hanno caratterizzato il territorio di Novara, Vercelli, Biella e Pavia tra l'ultima metà del XIX secolo e la prima metà del XX. E poi, la giornata mondiale dell'ambiente 5 giugno 2022, il titolo è solo una terra che si focalizzerà sulla necessità di vivere in modo sostenibile, in armonia con la natura. Il pianeta Terra è l'unica casa per i suoi abitanti e occorre salvaguardarne le risorse. Chiude poi, lunedì 6 giugno, la conferenza all'ITO Amar di Novara, sempre con la partecipazione in streaming delle scuole del territorio. Titolo, materiali nanostrutturati a base di cellulose per la decontaminazione ambientale. Il filo conduttore di tutta la manifestazione è il cambiamento per agire, innovare e attuare. Creare insomma delle alleanze efficaci tra scuole, istituzioni, imprese, e cittadini per sentirsi responsabili nella costruzione di una società equa, rigenerata e resiliente. Domani i Rainbow Cheers di Borgosesia partiranno alla volta degli Stati Uniti per disputare i mondiali di cheerleading. Grande festa sabato pomeriggio al palazzetto dello sport l'Europeana di Borgosesia in onore degli atleti della Rainbow Cheer che partiranno il 17 aprile per Orlando in Florida dove parteciperanno ai campionati mondiali di cheerleading. I ragazzi fanno parte della nazionale italiana, sono tutti balsesiani, si tratta di Selin Mandia, Anna Laura Camanino, Costanza Modetti, Martina Spunton, Mattia Giacobini e Gabriel Costadone. Hanno regalato qualche momento di esibizione al numeroso pubblico presente al palazzetto dello sport e ai tantissimi atleti di tutte le fasce di età che si sono esibiti in un flash mob benaugurale. Erano presenti anche tanti bambini che hanno avuto la possibilità nel corso del pomeriggio di provare alcune discipline praticate dalla società sportiva Arcobaleno. Nel corso del pomeriggio sono stati presenti anche i ragazzi dell'associazione sportiva Passport 2 guidati da Francesca Vinzio che parteciperanno a giugno ai giochi nazionali di Berlino, giochi propedeutici agli Special Olympics 2023 che si terranno proprio nella città tedesca. Ed ora come ogni sabato spazio alla rubrica enogastronomica QCAP. Scopriamo la ricetta golosa di oggi. E' una delle nuove stelle Michelin ed è la prima e l'unica a Perugia, l'acciuga con Marco Lagrimino, oggi ospite a QCAP. Buongiorno, sono Marco Lagrimino, lo chef dell'acciuga. Oggi vi presento trota e barbabietola. In pratica prendiamo la trota e la valnerina, la mariniamo tre ore con una parte di zucchero e sale e viene messa a marinare per tre ore. Poi la fettiamo, la glassiamo con una riduzione di barbabietola e ceto. La parte bianca è un kefir che facciamo noi, poi viene in un secondo momento affumicato. Finiamo sopra con dei cubettini di barbabietola che vengono marinati in un succo di barbabietola e lampone zucchero. Finiamo il piatto con una fogliolina di crescione fresco. Buon appetito a tutti! In abbinamento con la trota salmonata della valnerina proponiamo il campo del guardiano, annata 2011, orvieto classico superiore DOC, a base di procanico, greghetto, verdello e malvasia. Mantiene una bellissima acidità nonostante gli anni che sono passati, e bella mineralità, finale un bouquet di fiori gialli. Gotham City Cocktail, su una guida ufficiale a cibi e bevande dal mondo di Batman, la edita a Panini Comics, autore André Derlington. Volume elegante con 70 ricette ispirate alla città del supereroe che tutti conoscono e sono proprio i cocktail a dominare la scena da Good vs Savile, ispirato ai fronti contrapposti di Batman e Joker e all'infinito sconto tra il bene e il male, o se preferite tra ginger beer e rum scuro che si fronteggiano nella ricetta. C'è anche spazio per snack e dolci come i brownie a forma di batarang. La pastiera, la vera ricetta, è quella di Casa Mia, di Stanislao Porzio, per i tipi di Guido Tommasi editore, un libro molto documentato che indaga i segreti e i riti della pastiera, un viaggio attraverso i secoli, addirittura prima delle citazioni del maestro Martino D'Acomo e successivamente del Messis Bugo. Già perché la pastiera, oggi declinata in mille variabili, ha radici storiche e simboliche che riportano al tempo passato remoto, un libro che corre attraverso i secoli e le simbologie, prima tra tutte quella pasquale, in oltre mezzo millennio di storia. Artur Lequesne è l'autore di un libro fatto tutto di domande, anche nel titolo, Perché gli spaghetti alla bolognese non esistono? 700 quesiti e ovviamente altrettante risposte che circondano il mondo della cucina, Ad esempio, perché non vanno lavate le uova? Perché alcuni pesci sono piatti? Perché sbollentare la carne prima di lessarla è inutile? Domande che spesso riflettono tanti errori in cucina. Questo libro, edito da Ippocampo, soddisfa la curiosità e aiuta a non sbagliare più. La cucina dei genovesi, per i tipi di tarca edizioni, tra farinata focacce, pesto e pan dolci. Ma non c'è solo il mainstream, pure ghiotto di una cucina tra montagna e mare, bensì molto di più. Il quinto quarto, ad esempio, le paste ripiene e i segreti della cucina di recupero nella torta pasqualina o nella cima. Un libro per conoscere meglio la cucina del capoluogo ligure e reinventarla tra le mura di casa. È tutto, la linea passa a Weekend Sport. Grazie per essere stati con noi. Buona serata con i nostri programmi.